In collaborazione con LifeGate, Volvo ha deciso di intraprendere un'attività a cui teniamo particolarmente. Si sa che il dovere per la responsabilità è per noi di Volvo un sentimento molto importante, responsabilità naturalmente sociale, in questo caso responsabilità ambientale. Abbiamo accolto con grande favore questa iniziativa, abbiamo voluto collaborare depositando fino a 14 cestini quest'anno, i cestini del mare si chiamano Sibin, sono dei cestini molto semplici apparentemente che però hanno una qualità straordinaria, cioè quella di riuscire a risucchiare dai porti fino a oltre mezza tonnellata di plastica e soprattutto di microplastica nel corso di un anno. Li stiamo depositando nei maggiori porti italiani, dalla Puglia alla Campania all'Emilia Romagna per salvaguardare le nostre coste. Si tratta ovviamente di una piccola iniziativa a raffronto delle tonnellate di plastica che purtroppo affliggono i nostri mali, ma una piccola iniziativa a cui teniamo molto, mi piace parafrasare, forse una goccia nel mare ma per noi tutte le gocce sono molto importanti e quindi oggi qui a Milano vogliamo fare il punto della situazione di questa operazione, di questa attività e quindi abbiamo invitato i sindaci che ci hanno ospitato nelle meravigliose coste cittadini delle coste italiane e anche i nostri concessionari perché sono saltati immediatamente a bordo, hanno voluto investire, collaborare per fare in modo che tutta la catena distributiva di Volvo fosse presente nella tutela dell'ambiente e soprattutto nella tutela dei nostri mari italiani che sono per noi importantissimi.